La Crociosa di San Francesco al Campo inaugura due nuovi mezzi, un'ambulanza e un camper. Sì, abbiamo un'ambulanza che è stata acquistata con una parte di contributo della Fondazione CRT e una parte con il contributo del lavoro svolto dai nostri volontari con l'attività istituzionale di Croce Rossa, mentre il camper è stato affidato in maniera definitiva dal Tribunale di Torino, è stato un mezzo confiscato alla malavita organizzata e quindi per noi è un onore avere questo mezzo e poterlo utilizzare e renderlo di nuovo disponibile alla cittadinanza. Sarà un mezzo che utilizzeremo per l'attività sociale, quindi come ambulatorio mobile, ci porteremo direttamente nelle piazze a fare attività di prevenzione, quindi come misurazione di glicemia, pressione, queste cose qua. E poi si è anche attrezzato come utilizzato come ufficio mobile in caso di necessità di emergenza, di calamità, quindi come ufficio logistico per coordinare attività di emergenza. E' il nuovo presidente della Croce Rossa di San Francesco al Campo? Sì, sono il nuovo reggente, fino alle prossime elezioni che ci saranno contro qualche mese, dopo di che poi se i volontari saranno d'accordo continuerò il mio operato. Ho già fatto il consigliere per tre anni, diciamo che continuo l'attività di gestione del comitato, prima c'era Daniera Mattei secondo presidente, io ero nella sua squadra. Quanti volontari siete e che zona coprite? Siamo circa 140 volontari attivi, copriamo la zona che è tra il Ciriacese e il Canavese, quindi siamo proprio a metà, quindi siamo anche in una posizione un po' di fulcro e quindi strategica per quanto riguarda l'attività di 118, ma anche per altri tipi di attività a livello di emergenza, di trasporti. Infatti facciamo parte della convenzione, abbiamo una convenzione con altri comitati del Canavese, con il servizio con l'AS Torino 4. Corsi di formazione in programma? Sì, allora continueremo anche quest'anno l'attività di formazione, sia a livello di aggiornamento dei nostri volontari, perché dobbiamo essere sempre aggiornati. Nel corso del mese di maggio inizieremo un nuovo corso di accesso per i nuovi volontari, quindi recluteremo nuovi volontari nella zona, quindi per chi vuole partecipare si può mettere in contatto con il comitato per poi iniziare il corso nel corso del mese di maggio. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!